Tutti in piedi, stalle a led! C'è un omaggio per i bambini a casa Questo sì, perché noi abbiamo un pubblico, abbiamo adulti, ma abbiamo anche i bambini E questo è un invito a mantenere vivo il nostro spirito Peter Panetti Tutti sul palco, forza! Con le mani! Grazie a tutti!